Musica Allora io qui vedo già un grande colpo di fortuna perché qualcuno è un ex ballerino di Raffaella Carrà Chi è questo? Chi di voi? Io sono l'ex ballerino di Raffaella Carrà che però ha avuto fortuna però poi è caduto un po' in disgrazia a te che nel film appunto è costretto a fare lezioni in un centro anziani di danza un po' decaduto, tra l'altro una famiglia con quattro figli, due adottati, due suoi, un po' di problemi economici Il mio personaggio è quello di un tipo disturbato mentalmente, uno che ha tante manie, rituali scaramantici però all'atere di questo ovviamente questa sua eccessiva sensibilità lo porta ad avere delle qualità che poi si riveleranno alla fine dell'episodio risolutive per l'andazzo del quotidiano familiare della famiglia Mammola Per abbracciarti e non pesarci più su, ma ritornare, ritornare perché Vi incontrate con Raffaella Carrà da quello che mi risulta, no? O no? Sì, ecco, è quello un colpo di fortuna o no? Sì, non so se doveva essere una sorpresa però ve lo dico, non lo sappiamo, non si è stato detto niente No, io tra l'altro ho già girato con Raffaella Carrà, sì, un grande colpo di fortuna perché è assolutamente un mito assoluto Poi tra l'altro è una persona con cui si lavora bene, simpatica, divertente, ancora in gran forma Abbiamo ballato insieme, no? Cioè, balla proprio alla grande mentre io invece ho affannato Raffaella Carrà è presentissima, infine, perché io dopo aver lavorato con lei mi è rimasto il mito Per cui ho casa tappezzata con le sue immagini, ho la cover sul cellulare con la sua immagine Parlo sempre di lei, di quello che ho fatto con lei, capito? Per cui quando poi nel film, per un motivo che non vi sto a dire adesso, riesco ad incontrarla Per me è un finale fantastico L'incontro tra voi due, di Lillo e Greg nella vita, quello mi sa che è stato un bel colpo di fortuna o no? Quello è stato un colpo di fortuna incontrarci in una casa di 10 fumetti che poi è fallita Quindi il fallimento della casa di 10 ci ha spronati a mettere su un gruppo musicale Con cui abbiamo cominciato ad avere successo e che è l'attesione dei derivati E poi è proprio la cosa incredibile che veramente è un colpo di fortuna nato da un colpo di sfortuna Quindi è pazzesco perché la sfortuna, perché noi stavamo lavorando attivamente per questa casa di 10 Cioè avevano commissionato a me e a lui e a Paolo Di Orazio Che poi diventò il batterista del gruppo, una rivista a fumetti Con cui noi abbiamo lavorato, abbiamo pensato Poi la casa di 10 è fallita e noi siamo andati a suonare un po' per disperazione Anche per guadagnare quelle all'epoca 50.000 lire a testa Quindi da questo colpo di sfortuna poi invece è nata la nostra fortuna Pare morto, me c'è stato a dormire E' interessato a Codesto Punto Vendita? Quella donna è un angelo Da quando l'ho vista non riesco a pensare che a lei Ma quella c'è solo i coatti Lei deve trasformarmi da ambasciatore in perfetto coatto Dal punto di vista nostro di lavorazione è stato il colpo di fortuna Perché noi è stato l'unico produttore comunque a darci fiducia cinematograficamente Perché noi sì abbiamo fatto sì tanto teatro, tanta televisione Però al cinema ancora non ci hanno proposto grandi cose Voi nella vita avete avuto un colpo di fortuna? Io no, mai! Magari non divertenti come i nostri E nella vita invece colpo di fortuna più grande? Qual è se vi va di dirmelo? I primi di ottobre 1977 quando ho visto al cinema Doria, di Via Andrea Doria in Roma American Graffiti Io avevo scoperto il rock and roll, mi sono andato al rock and roll